Siamo al Sanit, settimo forum internazionale della salute, io sono qui con il dottor Giuseppe Milanese, presidente di Federsanità. Presidente, una battuta su questa innovazione, la rete della sanità è cooperativa? Sì, una battuta semplicissima, la federazione nasce il 22 aprile, mette insieme le cooperative che lavorano in ambito sanitario, quindi quella dei medici, di medicina generale, le farmacie, le mutue e gli operatori sanitari. Siamo 55 mila lavoratori, 200 realtà su tutto il territorio nazionale, il settore di azione è prettamente l'assistenza domiciliare, vogliamo portare a casa dei cittadini tutto ciò che alle famiglie oggi serve.